No, non guardare gli altri. Su, su, su. Alessandra, prima che mi dimentichi, grazie. L'ho aggiunto una foto con me, vediamo tutto bene. Vai Lisa, vai, vai, vai. Vieni, premialo Luca così. Bravo, bravo. Bravo, porti di su. Vai. Ok, andiamo. Vai, andiamo. Bravo, Alessandro Caselli col gruppo di allevamento. Bravo, sei bravo. Bravo, sei bravo. E con i porcellini. Bravo. Ma sei bravo. Ma sei bravo. No, no, va bene così, va benissimo così. Sì, sì, sì. Basta che sorridete, quello è l'importante. Cis. Preparino per i giovani. Precce, maschi, numero 9, 12, 13, 14. Nel rinco. Ti propone il numero 46, maschio player, grazie. 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 Pronti? Partenza. Via. Eccoli lì, bellissimi. Grazie. 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 Pronti? Via. Via. Eccoli lì, bellissimi. Propriaca. 3ran. Grazie. Che botte usi. R мамace avespa. Ciao, ciao. Ah, sono. Un frappello. Non Vot fully? Non tenere sempre il Rosen. Non quando tikkäre lepoint. Nonести Print powered, certificare la Uniamo. È slopso. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.